ci sia una rottura delle membrane. Noi utilizziamo come indicazioni le seguenti, la rottura prematura delle membrane appunto, la morte in dottrina fetale, le gravidanze oltre il termine, fra 41 e 42 settimane. Non ho trovato in nessun articolo, in nessun lavoro, una specifica epoca fra 41 e 42. Diciamo che qualsiasi giorno in questo intervallo può essere considerato adeguato. Nel caso di ipertensione gestazionale e preclampsia, le condizioni che sono un rischio per il feto, cioè ritardo di crescita, oligodramnios, all'immunizzazione, diabete e colestasi materna. Condizioni mediche materne come diabete mellito, la nefropatia, malattie polmonari croniche. Fattori logistici, rischio di parto precipitoso, notevole distanza dall'ospedale, indicazioni psicologiche e richiesta materna. Queste sono i casi in cui cerchiamo sempre di più di evitare comunque di eseguire un'induzione. Se però è proprio indispensabile, possono essere condizioni in cui si può procedere. Ci sono poi delle controindicazioni assolute all'induzione, che sono interventi chirurgici sull'utero, con un interessamento documentato a tutto spessore della parete miometriale, un taglio in cesareo con un'incisione longitudinale e la miomectomia. Per quanto riguarda il taglio cesareo con incisione trasversale, ne parlo un attimo dopo perché non è considerata comunque una controindicazione assoluta. La placenta previa e i vasaprevia, il travaglio di parto in atto, alterazioni patologiche del battito cardiaco fetale, tachisistolia e ipertono uterino e situazione trasversa fetale e infezioni dell'ultimo tratto cenitale che controindicano il parto per via vaginale. Le condizioni particolari sono condizioni in cui non c'è una controindicazione assoluta a eseguire l'induzione, però sono condizioni in cui l'induzione è possibile, però è necessario fare un attento monitoraggio della paziente e del feti. Per esempio nel caso delle gravidanze multiple, nel caso di polidramnios, di cardiopatia materna, multiparità elevata, ipertensione severa, pregresso taglio cesareo. Nel caso del pregresso taglio cesareo possiamo utilizzare l'ossitocina, assolutamente non è possibile, lo sapete già tutti, ma comunque preferisco ripeterlo, non eseguire l'induzione con le prostaglandine e questo è riportato da tutte le società scientifiche e in tutti gli studi. La domanda adesso è quale induzione andiamo a fare, come facciamo a indurre queste pazienti? Le modalità di induzione dipendono soprattutto dalla situazione cervicale. Lo score utilizzato per categorizzare la cervice è sicuramente il Bishop Score che tutti conoscete e sappiamo benissimo tutti come deve essere eseguito. Uno studio recente, una review recente sul Bishop Score dice che la capacità predittiva del Bishop Score di partorire spontaneamente è debole, anche quando è associato alla cervicometria, cioè non ha un grande potere predittivo, non è che ci sa dire con una particolare sensibilità se la paziente partorirà spontaneamente o eseguirà un taglio cesareo. Però non vi sono altri metodi con potere predittivo migliore. Sappiamo che c'è stato anche ipotizzato un Bishop Score modificato in cui era anche inserita la cervicometria ma anche in quel caso non si ottengono risultati migliori. L'utilità del predire il buon esito dell'induzione è comunque correlata alla reale necessità dell'esplettamento del parto in tempi brevi, cioè se noi riteniamo che una paziente debba essere indotta perché deve partorire, non ci interessa a che punto sia il suo score, a che punto sia la sua cervice, quanto sia realmente preparato o impreparata, ci interessa tentare di farla partorire, altrimenti procediamo direttamente col taglio cesareo, se riteniamo che sia indispensabile che lo faccia il prima possibile. Quindi la sua utilità, cioè del Bishop Score, è quella correlata alla decisione del metodo da utilizzare per appunto indurre il travaglio. Perché l'induzione abbia un buon esito è importante avere tanta pazienza, cioè lasciare all'induzione il margine di tempo necessario perché possa avere il suo effetto, cioè dobbiamo comunque lasciare che il tempo necessario perché quello che utilizziamo, il prepidile o l'ossitocina, possano realmente agire. Per quanto riguarda la cervicometria vi riporto questo studio, anche questo molto recente, che fa parte, è una sottoanalisi dell'IPITAT trial che è stato eseguito per valutare l'opportunità dell'induzione in pazienti con ipertensione o con precampsia lieve. Sono state prese 756 pazienti fra 36 e 41 settimane che sono state trattate o con condotta d'attesa o con induzione del parto. Questo studio che vi riporto del 2012 è una sottoanalisi del primo e ha valutato quanto la lunghezza cervicale e la preparazione cervicale ha influito sull'outcome dell'induzione. E cosa abbiamo visto? Che la lunghezza cervicale non ha inciso sulla probabilità di outcome negativi materni e fetali. Stiamo parlando di pazienti non di gravidanze fisiologiche ma di gravidanze con ipertensione, quindi interessa anche l'outcome materno al di là del taglio cesario. Poi la capacità di ridurre l'incidenza di tagli cesari è stata maggiore tra le pazienti con service sfavorevole. Questo sicuramente è un dato che non ci saremmo eventualmente aspettati, almeno io non me l'aspettavo. Nel gruppo di attesa il rischio di outcome sfavorevoli, cioè negativi, è maggiore tra le pazienti con service impreparata. Vi ho riportato anche i grafici così per avere un'immagine anche visiva. In questo grafico viene riportata la probabilità di taglio cesario in relazione alla lunghezza cervicale e vediamo che non vi sono differenze fra i due gruppi, mentre vi sono differenze fra i due gruppi fra gli outcome sfavorevoli per la madre e vediamo che si ha una maggiore incidenza di situazione ad alto rischio materno nel gruppo di attesa con service impreparata. In ultimo, oltre a riportare questo trial, mi potreste fare l'appunto di dire che è un trial che parla solo di pazienti a rischio perché sono pazienti ipertese. Vi riporto anche questa recentissima meta-analisi che riporta il fatto che l'unico vantaggio della cervicometria è che è sicuramente più riproducibile del Bishop's Core, però presenta comunque una limitata capacità di predire l'outcome dell'induzione. Quindi per quanto riguarda il ruolo della cervicometria nell'induzione possiamo dire che non ha nessun ruolo, che ci possiamo accontentare anche se magari può sembrare vecchio comunque del Bishop's Core, non aggiunge nulla, quindi non è necessario eseguire la cervicometria in queste pazienti. Ora parliamo dei metodi di induzione, tutti li conoscete bene ma ve li elenco velocemente. Abbiamo l'induzione non farmacologica con scolamento delle membrane amniocoriali, poi c'è l'amnioressi, la dilatazione cervicale con metodi meccanici, il CRB, cervical repairing balloon o il catetere di folii, che però il catetere di folii non è nelle sue indicazioni, non riporta scritto che può essere utilizzato per l'induzione del parto, per cui se utilizzate il catetere di folii che è sicuramente più facilmente reperibile, dovete far firmare un consenso informato alla paziente. Fra le induzioni farmacologiche abbiamo l'induzione con l'ossitocina e con le prostaglandine. In letteratura si parla tantissimo del misoprostolo, però in Italia è off-label per quanto riguarda l'induzione del parto, per cui noi italiani per ora non possiamo assolutamente utilizzarlo e quindi ci dobbiamo limitare all'utilizzo del dinoprostone, che sono prostaglandine E2, sotto forma di gel o pessario a rilascio prolungato. Per quanto riguarda l'induzione non farmacologica e lo scolamento delle membrane, questa è una recente Cochrane, una revisione della Cochrane che ha analizzato 22 trial e conclude che lo scolamento delle membrane sistematico a termine è associato a una riduzione della durata della gravidanza oltre 41 e 42 settimane. 8 donne devono essere trattate perché una ne traga beneficio. I benefici devono essere bilanciati col discomfort percepito della paziente e soprattutto vi dico che è consigliabile parlare con la paziente, spiegarle che verrà eseguita questa manovra in modo tale che sia pronta, sia consapevole di quello che sta succedendo. Noi per esempio abbiamo avuto delle lamentele per quanto riguarda appunto lo scolamento delle membrane per cui vi consiglio di dirglielo comunque alla paziente. Nel caso ci troviamo di fronte, tutto bene?